The Last of Us parte 2, o per meglio dire stagione 2. Infatti oggi andremo a parlare di tutto quello che sappiamo in merito alla seconda stagione della serie televisiva che durante la prima stagione ha riscosso tantissimo successo. Io l'ho vista su Sky, perché in Italia è andata in onda su Sky, la prima stagione mi è piaciuta molto, molto, molto. Io ho visto e ho giocato a parte 1 e a parte 2. Devo dire che la prima stagione è molto fedele, anche se ci sono delle cose differenti, ma è molto fedele. Secondo me il problema principale della prima stagione è l'aver avuto pochi episodi a disposizione per trattare delle tematiche che secondo me avevano bisogno di più tempo, di più respiro. Inoltre secondo me gli infetti non è che siano apparsi così tanto. Ok che The Last of Us parte 1 e parte 2 soprattutto non hanno mai rappresentato la tematica principale degli infetti. Il tema principale è che, soprattutto nella parte 2, chi ha giocato lo sa, che gli umani sono più temibili dei mostri in poche parole. Ma questo è già un concetto che avevamo anche in The Walking Dead, che è una delle mie serie tv preferite, soprattutto le prime stagioni. Dobbiamo avere più paura dell'essere umano che degli infetti e è assolutamente una cosa bellissima, se ci pensiamo, bellissima e bruttissima allo stesso modo. Comunque nella seconda stagione sappiamo che avremo più episodi e questa cosa mi fa ben sperare, perché la seconda parte di The Last of Us ha delle tematiche ancora più interessanti che devono gestire bene e inoltre ci sono molti più personaggi rispetto a parte 1, perché se in parte 1 avevamo praticamente al 90% Ellie e Joel con altri con primari ma che apparivano veramente poco per un po' di tempo, insomma, in parte 2 abbiamo molti più personaggi, sia primari, ovvero Ellie e una certa Abby, e anche secondari. Ok? Sappiamo che ci saranno più infetti all'interno della seconda stagione. Inoltre, Druckmann ha dichiarato che la seconda parte del videogioco non sarà adattata in una singola stagione ma sarà divisa in più stagioni televisive e questa cosa mi fa ben sperare, sono molto contento di questa cosa, perché se tu mi prendi il secondo videogioco e me lo adatti in una sola stagione, addirittura da 9 puntate come la prima fai un casino della madonna secondo me, fai veramente un casino. Quindi sono contento, inoltre hanno deciso dove pianificare le riprese, ovvero a Vancouver, almeno per la prima parte della stagione e per chi ha giocato al videogioco sa benissimo di cosa andrà a parlare quella parte a Vancouver, ok? Non facciamo spoiler per chi non ha giocato ma sappiamo benissimo dove si andrà a parlare e io già piango e successivamente poi staremo a vedere inoltre Bella Ramsey ha espresso tutta la sua voglia di iniziare le riprese di questa stagione. Bella Ramsey che, sì, fisicamente, dal punto di vista fisico non ricorda assolutamente l'Elly del videogioco, ma a me non me ne frega una mazza essendo anch'io videogiocatore, ma non mi importa perché Bella Ramsey è un'attrice bravissima, è stata bravissima in parte 1, nella stagione 1 e secondo me nella stagione 2 sarà altrettanto brava. Tra l'altro è stata confermata lei che rimarrà nella parte di Ellie perché sappiamo che c'è un salto temporale ma comunque sia, truccandola, tra l'altro passerà un annetto e mezzo, un anno tra le riprese della stagione 1 e della 2 forse anche 2 anni, prima che arriverà la stagione 2, quindi anche essa crescerà, poi tra trucco e parrucche la fanno un po' più grande e non c'è alcun problema, quindi staremo un po' a vedere. Io sono assolutamente curioso, ripeto, la prima stagione mi è piaciuta molto però dalla seconda io voglio tutto più in grande perché adesso hanno visto che la serie ha avuto molti ascolti hanno avuto secondo me il freno a mano tirato per la prima stagione perché avevano paura che flopasse lo si vede da diverse cose, la serie è ottima però ci sono delle cose che secondo me hanno avuto paura di sviluppare per un possibile flop detto ciò io vi ringrazio, voi fatemi sapere la vostra opinione qui sotto in un commento, iscrivetevi e alla prossima!